Il Boronino stuisce tantissima e palle gol, non trovo il vantaggio soltanto all'ottantasesimo con il gol di destra che torna a segnare, non attendeva da Fibraio, l'ultimo credo si era fermato Il Boronino stuisce tantissima e palle gol, non trovo il vantaggio soltanto all'ottima Il Boronino stuisce tantissima e palle gol, non trovo il vantaggio soltanto all'ottima